Una scienza più ricca e più libera, ma anche più credibile, attraverso la molteplicità dei punti di vista che estendono le prospettive e alimentano la discussione pubblica sulla sua natura e sulle sue implicazioni. Diversità è la parola chiave di Scienza e Virgola 2024, il Science and Media Festival, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SIS in programma a Trieste dal 16 al 21 maggio, con la sua ottava edizione. Lo scrittore fisico Paolo Giordano è il direttore artistico del festival e sottolinea l'edizione 2024 si chiude con un programma più fitto e vasto, diramato in molte direzioni scientifiche e culturali. Il programma, che si muove nei territori di confine, intersezione fra cultura umanistica e scientifica, vuole infatti restituire confronto e sostanza a una parola inclusività, che talvolta suona svuotata, aumentare il numero delle visioni e prospettive in ambito scientifico è determinante. Quest'anno il cartellone sarà volutamente sbilanciato dalla parte femminile per alimentare una coscienza autocritica. Sei giorni di incontri, dialoghi, eventi esperenziali e un vastissimo focus dedicato all'editoria scientifica. Ben 24 libri da sfogliare insieme e quattro presentazioni in anteprima riservate a Scienza e Virgola 2024 sul filo rosso della varietà dei punti di vista nella discussione pubblica sulla scienza e in particolare di una visione appunto al femminile. Molti gli incontri, molti protagonisti, moltissime le scrittrici, divulgatrici, giornaliste, attrici e altre voci al femminile del festival, che si aprirà con un'anteprima dedicata alla fisica del caffè. Un programma diffuso ed esteso che lambirà teatri e librerie, scuole, biblioteche e caffè, ma anche luoghi nuovi per il festival, come la casa circondariale Ernesto Mari di Trieste e la scuola dell'infanzia di Melara. La scienza, sottolinea Paolo Giordano, è più credibile quando si allargano le prospettive e quando si stimola la discussione e questo attraverso i libri, il teatro, il cinema, i laboratori e le molte attività con cui viene raccontata, riletta e veicolata. A scandire il festival saranno i tre importanti dialoghi condotti proprio da Giordano, l'evento inaugurale, sul tema trovare la libertà attraverso la scrittura, quindi il confronto con l'autrice e psicoterapeuta Stefania Andreoli. Infine, lo sguardo sulle giovani generazioni travolte dalle guerre o impegnate nella resistenza ai regimi dall'Ucraina al Medio Oriente con la giornalista Cecilia Sala.